In diretta, in diretta, vediamo un po', allora, vediamo, nuovo suggerimento, allora vediamo, ci dovremmo essere, speriamo che oggi l'audio vada bene, intanto io che vi aspetto e che riesco a leggere i vostri messaggi, perché ogni volta sono un po' impacciato, ogni domenica veramente ce n'è una. Allora, Donatella, ciao, ero lì pronta e attenta, ciao ragazze, a cercare di migliorare il mio audio, perché come sapete tutti, quelli che mi seguite, ultimamente il mio audio fa i capricci. Allora, ciao Mary, buon pomeriggio, Giacomo, Vite, Giacovici, Emanuela, quindi, ciao Simona, ciao Lucia. Allora, ragazze, siccome ho perso un po' di tempo a cercare di mettere a posto l'audio, speriamo che oggi voi mi possiate sentire bene. Anima cosa mi dice? Ciao Marina Lore, aspettate un attimo, facciamoci i saluti. Allora, se si sente bene intanto, perché ultimamente ho avuto problemi con questo mio audio, che piacere vederti, posso mettermi lì? Allora, Loredana Moreni, sì, ti ho visto anche prima, Loredana, ti scrivo, ti metto subito qua in lista. Allora, Loredana, Loredana, ciao ragazzi, buona domenica, ciao Manuela, un messaggio da una proprietà di Maricela, questo periodo è un po' strano, un abbraccio. Emanuela Mereo, Emanuela Loredana Moreni, Emanuela, Emanuela Mereo. Adesso vengo ai saluti e intanto buon pomeriggio a tutti, buona domenica, iniziamo queste fine domeniche di estate. Fine estate, allora, uscire da un periodo, no, uscire da un periodo un po' strano, vediamo come possiamo fare. Invece Loredana, posso mettermi in lista? Allora, un attimo che qua, buon pomeriggio a tutti, io ho già iniziato a leggere, sono state a 15 giorni in pausa come tutti voi, spero viate fatte delle buone vacanze, buone. Allora, Emanuela Mereo, sei in lista? Magari se riusciamo ad avere la domanda. Ciao Giacovitti, Paola, buon pomeriggio, Maria Grazia Scarpellini, intanto iniziamo, perché qui un'ora vola e quindi io vorrei farvi contente tutte. Grazie di essere qua con me. Allora, messaggio dalla mia anima per uscire da questo, Maria Grazia Scarpellini. Allora, Loredana, anche, Loredana, Emanuela e Mereo, allora, Maria iniziano a scorrermi, non so come fermare questi, questi cosi. Allora, aspettate, devo riprendermi, spero di riuscire, niente, sono andati su. Allora, ciao Mary, buon pomeriggio, spero di cercare un messaggio dalla mia anima sui miei attacchi di panica. Stella Russo, Stella Russo, attacchi di panico, vediamo, attacchi di panico, vediamo perché. Allora, ciao Donatella, eccomi, oggi ero lì in tenta. Donatella, mi si sente bene? Spero che sia, io possa essere riuscita a sistemare questa situazione del microfono. Simona, sì, se hai legami carmici, vediamo, Simona, sì, legami carmici. Allora, buongiorno, Maria Grazia Piacentini, ciao Mary, mi piacerebbe sapere se hai qualche ferrita irrisolta. Ah, Katia Di Cico, buona domenica, ciao Katia, che bello averti qui, mi fai emozionare. Allora, un bacio e un abbraccio grande. Qui i messaggi mi vanno via veloci e non riesco a prendervi tutti. Allora, Rosaria Tamaro, mi piacerebbe ricevere un messaggio da Tamaro. Paola Andolfi, Rosaria, un messaggio per me. Samantha, mi sarò grata di accogliere quello che arriva per me. Silvia Tumolo, Silvia Tumolo, Silvia Tumolo. Allora, Silvia Tumolo. Vediamo cosa arriva da anima. Allora, ragazze, qui ho questi messaggi che non riesco perché poi dopo mi scompaiono a prendervi tutti. Quindi proprio a random, come usiamo di raggiungere un messaggio. Maria Laura, ciao cara, puoi dirmi cosa mi dice la mia anima? Ci vercolina, Tatiana Marina. Allora, Tatiana, ti penso sempre, spesso, a te ti mando un bel messaggio in privato. Patrizia, sì, potete entrare in lista, magari se fate direttamente la domanda. Rosangela, siete tantissime, mi emozionate sempre tutti. Allora, Rosaria, Rosaria Tamaro, vediamo. Rosaria, non sono riuscita. Puoi essere giunta alla lista con una domanda che però mi è sfuggita. C'è un messaggio da anima, Liana, Marina, ciao, buona domenica, anche a te. Possiamo mettermi in lista, Diana Ponticella, sì, con una domanda. Nadi Vespo, non ho bisogno della vostra data di nascita. Allora, vediamo, vorrei sapere se ho i risolti carmici o emozionali. Grazie, Maria Grazia Piacentini. Maria Grazia Piacentini, ti ho preso. Allora, Maria Grazia Piacentini, i risolti carmici. Benissimo, andiamo, cresciamo insieme, eh? I risolti carmici. I risolti carmici. Maria Grazia Piacentini, Silvia Tumolo, Simona Siste, La Russo, Emanuela Meru, Loredana Moreni. Loredana Moreni. Allora, ciao Rita, ciao Rita Fogliani. Allora, Kate Beskin, che si blocca sempre la mia vita sentimentale. Kate Beskin, Kate Beskin, perché? Allora, Kate Beskin, perché? Perché si blocca la vita sentimentale. Allora, non vorrei chiedere perché sono qui, grazie. Donatella Gargiulo, Donatella Gargiulo, perché sei qua? Vediamo un po'. Donatella Gargiulo, abbiamo tempo, eh? Allora, perché sono qua? Una domanda diretta. Barbara Mortignoli, spero di ricevere, non so mai riuscire a aver messo, chiedo quale direzione dice la mia anima, se riuscirò a breve a costruire una storia importante con l'uomo che frequento. Niente futuro. Non sono mai riuscire a chiedere, quale direzione dice Barbara Martignoli. Allora, Barbara Martignoli, Barbara Martignoli, la direzione, direzione quale? Vediamo, perché anche questo è un po' un suggerimento di quello che dovete fare. Allora, Anna Maria Schettino, per me mi sento molto legale a una persona che continuo ad avere immagini con lui in futuro, ma adesso nel presente sono con un'altra persona e non so come fare. Anna Maria Schettino, ho una domanda, è un po' troppo lungo, cioè sintetizziamo, perché qui abbiamo poco tempo, però ancora ne prendo. Allora, buon pomeriggio. Cosa mi consiglia la mia anima al percorso terreno? Vediamo un po', aspetta, Antonella alla sala. Noi ci siamo già sentite, mi sembra. Lucia Riccelli, legami carmici. Lucia Riccelli, legami carmici. Vediamo, queste sono importanti domande. Biasin Daniele, ti ricordi di me? Non molto, perché io tendo a cancellare. Devi ricordarmi, mi dispiace, perdonami. Sara Baraggiola, c'era un messaggio da... Ci vengono, mi fuggono, via. Le mie ferite stanno guarendo, grazie mille, Daniele. Se le mie ferite stanno... Sara Baraggiola, vediamo, eh. Sara Baraggiola. Ferite. Stanno guarendo? Vediamo un po'. Dovete vedere come scrivo. Un giorno vi farò la foto dei miei scritti delle dirette. Allora, per piacere vorrei sapere se ci sono blocchi... Accidente. Allora, Maria Giovanna Santoro. Maria Giovanna Santoro. Vediamo se ci sono blocchi. Maria Giovanna Santoro. Blocchi? Facciamo così, così a brevio. Non riesco mai ad avere un messaggio. Ne avrei... Niente, non ci riesco. Siete tantissime, mi fuggono via. Barbara Martignoli. Spero non riuscire a prendere, non sono mai riuscita. Barbara Martignoli, mi pare che ti ho visto. Martignoli, sì. Ti ho preso. Elisabetta, vediamo. Allora, qui ci sono riuscita. Allora, salve caro. Qualche tempo fa... Mi ritorna sempre... È la prima volta che ti seguo. C'è un messaggio per me. Domani ho domanda. O blocchi che è Patrizia Rancano. Allora, Anna Rita Schettino. Mi sento molto legata. Sono andata quindi indietro, no? Mi succede. Forse non so fare. Vediamo un po'. Allora, Stefania Pirassa. Voleva avere un messaggio per me. La direzione deve andare. Come fare il mio ragazzo? Troppo futuro, ragazzi. Cosa devo fare? La strada che devo prendere? Non è proprio questo. Quello che anima... Sentiamo bene, Katia Damiani. Eccoti, grazie. Mi sei in aiuto. Ti sentiamo bene. Oggi sono riuscita da mettere a posto questo microfono. Allora, buongiorno. Mi avere un messaggio. Damiani ha un messaggio per me. Legami carmici. Bonomo Maria. Allora, Bonomo Maria. Adesso vediamo. Se non riesco, ti scrivo in private. Simona Lobionda. Lobiondo. Simona... Andiamo, eh. Lobiondo. Legami carmici. Vediamo, eh. Giacovitti. Allora, sono scomparsa. C'è un messaggio per me. Sento molto legata. Una persona non so cosa devo fare. Buongiorno. Vorrei sapere dei miei talenti, Roberta. I miei blog. Katia De Cicchi. Vi vorrei chicarmi. Allora, facciamo qualcuno di nuovo. Anche se io vi ringrazio sempre di essermi... Eh, di essere qui con me. Eh, messaggio alla mia situazione. Eh, accidenti. Eh... Se... Niente, mi sfugge via. Adesso iniziamo, eh. Mi piacerebbe il messaggio. Grazie di cuore. Grazie, grazie. Bonomo Maria. Se c'è un messaggio di anima in questo momento. Buongiorno, posso avere un messaggio? Allora. Eh... Serena Prospitti Andreucci. Allora, Serena Prospitti. Messaggio da anima. Prendiamone due. Eh, un messaggio da mia anima. Claudia e Elisabetta Nicolini. Claudia. Elisabetta. Messaggio da... Nicolini, eh? Claudia, Elisabetta, Nicolina. Nicolini. Allora. Diana Ponticelli. Se mi ha preso la metafonia continua. Diana Ponticelli. Su, metafonia. Diana Ponticelli. Ponticelli. Diana Ponticelli. E poi iniziamo, eh ragazze? Diana Ponticelli. Allora. Percorso di metafonia. Metafonia. Se continua. Allora. Vi risponderei a tutti, ma... Eh... Ci sono tantissime domande. Allora. Eh... Se ho ancora tempo, ne prendiamo ancora, eh ragazze. State qui con me, perché poi adesso iniziamo. Allora. Loredana Moreni. More... Moreni. Mmm... Loredana Moreni è una delle prime domande. Delle domande. Voleva sapere... Mmm... Un messaggio. Vediamo. Allora, iniziamo. Grazie di essere qui, mi devo concentrare e devo iniziare a vedervi e ad ascoltare le vostre anime. Vediamo a Loredana cosa, ehm, cosa le dice questa anima. Allora, senti, mh, che strano. Mi arriva con una, eh, raffigurazione molto particolare. Perché mi arriva con le mani, la tua anima, Loredana Moreni, non so. Mi arriva con le mani, mh, legate. Sapete com'è quando, mh, uno ha una camicia di forza. Quindi, mh, è come se lei mi stesse, ehm, comunicando, ehm, un legame, cioè, mh, è come se una chiusura, come se qualcuno o qualcosa o tu o addirittura lei permettesse di essere costretta, ehm, ha le mani legate la tua anima. E, e adesso vediamo perché sembra che, mh, questo, queste mani legate, che è un po' come, ehm, se non riuscisse a compiere nella tua vita, ehm, eventi di cambiamento, quindi la partecipazione, è legata, è collegata, Loredana, a vite precedenti. E, mh, guarda, sei venuta in questa vita, ehm, con un, con questo compito proprio di ritornare a riusare il tuo potere. E, purtroppo, sei legata con le mani da, un, diciamo, un evento particolare, ehm, come se ti portassi dietro da una vita precedente, ehm, un anatema, come se qualcuno avesse impedito, ehm, ti avesse impedito, ehm, in un lungo percorso di reincarnazione di poterti sciogliere, no? Queste mani legate con questa camice che di solito hanno quei pazienti, no? Che devono essere immobilizzati, ma non nella follia, eh, solo nell'immobilizzazione. Quindi io direi proprio, Loredana, di andare in, ad incontrare questa persona. Era un, come se fosse stato un innamorato di te, una persona che ci teneva, che voleva proprio prenderti sposa. E, ehm, non, i tuoi genitori erano d'accordo, ma tu lo hai rifiutato. Quindi è come se lui avesse impedito, ehm, il farti fluire animicamente. Quindi avesse un po' bloccato. Quindi Loredana Moreni, noi andiamo lì, distruggiamo questo anatema che quest'uomo con tanta passione, eh, ha lanciato su di te. E togliamo questo camice che impedisce alla tua anima di muoversi, cioè di aprire le sue braccia e di creare gli eventi di partecipazione nella tua reincarnazione. Non mi sorprenderebbe che tu ti sentissi, eh, sempre in dubbio e bloccata proprio nelle decisioni anche di cuore, no? Quindi empatiche. Perché era la tua anima, cioè tu hai una mente forte, dinamica, però è come se la tua anima vivesse a metà della sua, del suo potere. Quindi siamo lì davanti, stiamo distruggendo questo camice che ti legava, stiamo riacquisendo tutta la tua libertà energetica e animica e stai ripristinando la tua, eh, vibrazione, ma non una vibrazione emozionale, proprio la tua vibrazione energetica. Loredana, molto importante quello che ti dico, lo rifarai nei tuoi, nelle tue meditazioni, perché tu dovrai assolutamente riprendere, eh, la tua vibrazione originale, cioè la vibrazione che tu avevi nel momento in cui sei scesa a fare quella, eh, reincarnazione, quella esperienza di vita e non hai voluto quell'uomo. Quindi è molto, molto importante. Da quel momento, da quel momento in cui noi abbiamo distrutto quell'anatema, quindi lo abbiamo eliminato e abbiamo eliminato quella camicia, tu hai riacquisito tutta la tua libertà animica. Ora ci riportiamo qui nel presente, nel momento in cui tu sei ora, qui ed ora, e ritorniamo nel tuo corpo, nella tua fisicità, occupandolo tutto, quindi, eh, con le tue mani, eh, proprio il nostro contenitore, eh, incorporando proprio bene, no? Prendendo come se stessi, eh, prendendo, indossando un abito che è il tuo corpo nella sua totalità. A questo punto tu riprenderai possesso della tua, delle tue emozioni, quindi non ti limiterai più ad amare, perché è nelle emozioni che ti trattenevi e quindi bloccavi tutto il tuo, eh, continuo, no? Tutto il tuo evolvere, la tua evoluzione negli eventi attuali. Abbiamo parlato e fatto argomentazioni importanti, energetici, di anima, ed è molto, molto importante che voi iniziate a crescere con le cose che noi possiamo fare. Quando noi abbiamo il potere di modificare il passato, come io vi ho detto nelle mie scritture, per manifestarci nel presente migliori e iniziare a progettare il nostro futuro. Quindi, Loredana, adesso tu sarai sicuramente più libera di amare e di, eh, costruire e progettare la tua linea temporale futura, libera da costrizioni, eh, nei movimenti animici. Quindi, abbiamo liberato la tua anima, liberato anima, praticamente. Eh, non mi sorprende che ti sentivi sempre stanca, con poca voglia di fare e con la limitazione nell'espandere, e nel portare fuori tutte le tue emozioni. Allora, andiamo avanti. Loredana, magari se mi fai, se mi scrivi, se ti senti affine con le cose che ci siamo dette, e come ti sentirai, poi magari mi farai sapere nei giorni futuri, perché qui stiamo facendo proprio delle, eh, approfondiamo questo argomento di anima, che non ci comunica solo messaggi, ma ci parla anche di sofferenze che si porta dietro da vite regresse, legami, dove noi comunque dobbiamo, eh, liberarci e iniziare a far fluire la nostra vibrazione energetica nella sua totale libertà. Allora, andiamo avanti, avanti e vi ringrazio. Passiamo ad Emanuela Mereu. Allora, mh, come uscire da un periodo un po' così? Vediamo, mh, che cosa ti suggerisce la tua anima. Allora, eh, Emanuela, eh, la tua, eh, in questo momento stiamo vivendo, eh, tutti in un momento particolare, però la tua anima mi arriva a me, intanto in una vibrazione molto, molto bassa. Parliamo proprio delle nostre vibrazioni oggi e le andiamo proprio a constatare. e stai girando tutto intorno, quasi come se, eh, tu fossi entrata in un limbo, no? In un, eh, in un loop, vogliamo dire. Eh, questa struttura, eh, circolare, questo percorso che la tua anima ti sta facendo, che sta facendo di continuo, ti porta a, a non evolvere, ti porta a scaricare la tua energia. È strano perché mi appari, eh, non sei vivace come energia e spenta però anche un po' nelle scurità. stai facendo, eh, dei pensieri cupi. Questi pensieri cupi stanno modificando, eh, la tua, il tuo colore, no? La tua vibrazione. Noi dobbiamo vibrare a mille e tu stai portandola con questi pensieri che sono circolari, cioè vuol dire un loop, è sempre quelli. E' come se tu ti riportassi sempre un po' a mordere, no? La coda, il gatto che si morde la coda. E quindi stai vibrando basso, oscurando e cambiando e modificando la tua forma. Ehm, senti, qual è la, la soluzione che cosa ti porta a questo? Eh, il tuo passato, perché tu continui a guardare quello che è stato. E ad avercela un po' come se ti autopunissi. Eh, c'è una forma in questo continuo, mh, di camminare in cerchio, di autolesionismo. Ed anima, eh, non è nella sua condizione, non è questa la condizione in cui vuole vivere. Eh, cioè, ehm, sgridata dalla mente. Quindi si sta rattristando, sta camminando in questo cerchio e non ne esce fuori. Per uscire fuori, ehm, da questo loop, chiamiamolo Emanuela, eh, in questo momento così particolare, eh, devi smettere di darti le colpe e di allontanarti da un passato. Un passato che sicuramente è stato un po' tosto, ehm, però, ehm, allontanarti da, allora, staccarti dal passato, ehm, non autocolpevolizzarti, quindi pensa che bei lavori mentali che devi distruggere. E, mh, e non isolarti, perché è un'altra struttura che, che, che vedo, ehm, in questo modo circolare di camminare adesso, insomma, in autocommiserazione, è che ti sta isolando. Quindi, ehm, distaccati dal passato, distaccati da quello che è stato, dal colpevolizzarti e, mh, e non isolarti. Quindi, mh, esci, uscire da un periodo un po' giù così particolare, ehm, diciamo che devi uscire da questa sorta mentale di auto-punizione. Eh, inizia a modificare, ehm, ehm, Anima mi fa vedere questo, è qui davanti a me e mi fa vedere, ehm, che va dentro alla tua casa, quindi non so se vivi in una casa tutta tua, quindi sei da sola, oppure sei in una stanza. È spostare tutte le cose della casa. Devi spostare. Sai che, mh, Anima mi sta facendo vedere che la tua mente è come se la forzasse a girare così in tondo. Cambia questo ciclo, ma non in senso anti-orario. Inizia ad uscire da questo cerchio, modifica le cose dentro la casa, sposta il divano, eh, cambia i colori della casa, inizia da, mh, quello che è il tuo vivere, a uscire da questo continuo, mh, cerchio e, mh, e cambi la tua vibrazione e quindi da lì inizierai a vedere, eh, a spegnere la mente e vedere le cose con un'altra prospettiva. Eh, modifica qualcosa intorno a te perché dovrai iniziare a modificare le strutture dentro di te. Molto importante perché Anima, eh, cambia, cambia, mi cambia le cose, eh, dentro casa, apre e chiude queste porte, ma queste porte le vuole lasciare aperte perché invece tu le hai chiuse. Eh, è molto particolare, eh, questa tua struttura in questo momento. Non scoraggiarti, non autoponirti, spegni questa mente perché stai silenziando troppo questa anima che sta soffrendo. Quindi cambia qualche cosa del tuo esterno, del tuo piccolo luogo dove vivi e inizierai a vedere la modifica interna dentro di te. Molto importante. Allora, grazie Emanuela Mereo, spero di esserti stata di aiuto. Eh, magari se ti senti come Anima mi ha fatto vedere che si è presentata sotto questa vibrazione, eh, fammelo, magari me lo scrivi perché così, insomma, vediamo piano piano insieme i risultati. Allora, andiamo avanti. Grazie sempre di essere qua, sono concentrata su di voi, stiamo parlando di argomenti molto più profondi del solito messaggio, sono molto contenta. Allora, oggi mi strapazzate un po' con questa mia abilità di parlare con le vostre anima. Stella Russo, attacco di panico. Allora, Stella Russo, come risolvere questi attacchi di panico? Eh, senti, tu, mi arriva la tua anima che è qui davanti, si fa largo per passare, eh, per passare in mezzo alle altre anime. Quindi, eh, quello che mi, mi dice con questo tono imperativo con la quale la tua anima si presa, si palesa a me, è che gli attacchi di panico che tu, ehm, senti vivi in questo contesto, eh, di dire incarnazione, non sono collegati ad anima. Eh, hai anima e mente separati fra di loro e la tua anima mi sta proprio dicendo che è come se la tua mente condicesse tutto il gioco. Ehm, anzi, questo impeto, questa forza, eh, con la quale lei mi sta trasmettendo è come se mi stesse dicendo che è stanca. Quindi, Stella, ehm, dovremmo risalire, magari anche tu lo puoi fare, non avete, non è necessario sempre chiedere, magari aiuto, possiamo iniziare ad auto-medicarci, a auto-guarirci noi. Ti consiglierei, Stella, di andare indietro in questa vita, in questa vita di questa reincarnazione a vedere nel mentale chi è che ha attaccato così, ehm, la tua libertà, no? Perché attacchi di panico è la paura comunque, eh, di essere in un luogo, di essere con delle persone. Quindi, eh, il non sentir, sentirsi vuoti. Nel momento in cui tu, Stella, eh, con la tua ricerca spirituale, con questi percorsi, queste conoscenze che stai, eh, intraprendendo adesso in questi percorsi che tu fai, eh, lasci, eh, fluire anima dentro di te, inizierai a sentirla. Hai un'anima forte, un'anima molto carica, eh, quasi nel maschile per come mi arriva qua, forte e poi si fa spazio. Quindi questi attacchi di panico sono perché la tua mente l'ha un po' ristretta, quasi farla allontanare, è separata. Quindi farla fluire dentro di te e iniziare ad essere istintiva, a fare le cose distinto, inizierai a ossigenarti, quindi a ossigenare, a dare aria, ad anima e i tuoi attacchi di panico se ne andranno completamente. Allora, Loredana Moreni, scusami, è vero, sei speciale, emozione e a mille. Alcune volte sono stanca e sento come fossi bloccata nel manifestare non solo in amore ma anche in altro. Per esprimere il nuovo sono legata forse al passato come mi hai detto. Cercherò di farlo. Grazie Loredana per questa, eh, testimonianza, te ne sono grata perché, eh, incoraggi me, incoraggi anche tutte le nostre amiche, tutte, siamo tutte amiche e compagne. Eh, Manuela Moreno, grazie mille, Mary, è tutto molto vero, è così. Senti allora Stella, quindi, eh, quello che vedo dei tuoi attacchi di panico è che dentro di te è come se questo distacco, mente e anima, proprio separati, ti abbia portato a un vuoto interiore. Un vuoto interiore che non va colmato dall'esterno, ma va semplicemente riempito con tutto quello che hai già, la tua splendida anima. Hai un'anima molto forte, è molto nel maschile, eh, quindi hai un carattere, eh, a volte un po' burbero, ma si addolcisce se la metti, eh, insieme a te a condividere le esperienze della vita. Eh, vivere praticamente, eh, vivere empaticamente, eh, vuol dire alimentare anima, ossigenare, no? Dare ossigeno a lei, quindi, non so, animali, una pianta, passeggiate nel bosco, amici, risate e diamo ossigeno alla nostra anima che si incorpora dentro di noi e quindi, eh, andranno via questi attacchi di panico perché ti sentirai in presenza e mai da sola perché sarai proprio tu con la tua bellissima anima. È un'anima di potere Stella, quindi se la fai fluire farete, farai, farete insieme al tuo corpo razionale, tuo corpo spirituale, grande esperienze in questa vita. Eh, ti ringrazio Stella, eh, spero di esserti stata di aiuto e se attui, eh, questi consigli che ti ha dato Anima, non te li sto dando io, sono certa che, eh, si atteneranno sempre di più qua, alla fine scompaiono questi attacchi di panico. Allora, andiamo ancora avanti, di, eh, Simona sì, che è sempre presente e mi fa sempre le domandine, vediamo, legami karmici. Eh, senti, legami karmici, eh, tutti i porti dietro, vediamo, eh, ce l'ho qua. E' arrivato da una vita dove, eh, ti vedo come a lavorare, eh, in quelle, pensa, mi ha portato in una vita dove tu lavoravi come a quei lavori, eh, forzati, eh, che si spaccavano le pietre, insomma, si tagliavano questi lavori che facevano i carcerati. Eh, un uomo molto, eh, rascibile, tanta rabbia in quella vita, eh, perché tu hai un'anima, eh, lei comunque è un'anima, eh, molto libera, quindi queste costruzioni, queste forzature, il mondo che finiva lì, eh, sei, sei stato imprigionato ingiustamente, quindi le ingiustizia, la ingiustizia di essere stato imprigionato ti ha fatto diventare cattivo, hai modificato, eh, la tua forma energetica. In questa cattiveria, eh, in una lite c'è stato un incidente, vedo che colluttato con un uomo, con un altro compagno, ci si è messa una guardia, insomma, eh, hai, lo porti dietro di te, questo, questa vita interrotta, un legame karmico, sì, perché porti dietro di te, ti allontani da quel corpo, esci proprio dal cuore quando esci da lì, da quella vita, ti allontani da quella parte lì e ti porti trascinandoti dietro, quasi come le palle, sai, quelle che legavano alle caviglie dei carcerati, un grande senso di colpa. Questo senso di colpa te lo porti, eh, ovviamente è di un'altra vita, no? Noi ce li portiamo come legami karmici, non le sentiamo, però è una nota dolente dentro di te, eh, che non sai, fino a che non viene detta come adesso, da dove proviene, quindi magari, mh, dai le colpe agli eventi di questo, mh, sottile malumore che invece non sono da attribuire a questa vita. Simona, porti legami karmici che è questo grande senso di colpa, eh, toglilo, possiamo toglierlo, poi, mh, apriamo questi portali, ma facciamo un'altra cosa, visto che parliamo di palla. Oggi, ragazze, eh, partiamo proprio in quarta, facciamo i lavori, qualcuno di voi mi conosce, qualcuno no, eh, ed è bene che conosci, iniziate a conoscere bene quello che possiamo fare insieme. Quindi, Simona, questa palla, eh, che hai le caviglie, facciamo proprio così, con questa sfera, la tiriamo fuori dal tuo cuore perché la porti pesantemente dentro, eh, inconsciamente, questo è un altro, eh, purtroppo un altro problema e la tiriamo fuori proprio come se fosse una sfera, è una sfera energetica di un'emozione di bassa vibrazione. E che cosa facciamo? Siccome noi abbiamo il potere di fare tutto, noi la tiriamo fuori, la vediamo proprio come quella sfera nera che erano, erano le nostre caviglie quando, eh, quando, eh, è ricarcerato e la modifichiamo perché noi abbiamo la capacità di modificare, di trasmutare tutto quello che è brutto in bello, quello che è negativo in positivo e quindi noi tutto quello che è oscuro lo trasformiamo in luce. Simona, spero che sei qua con me, noi in ogni caso lo facciamo, io sono collegata con la tua anima che mi ha portato a questo importante legame karmico e trasmutiamo questa sfera energetica nera in una sfera energetica di luce, la stessa luce di cui tu sei fatta, la bellissima luce, eh, energetica che vibra mille, come vi dicevo, la nostra vibrazione originale, mille, duemila, possiamo dare un termine che vogliamo noi, un numero che vogliamo noi, ma è una vibrazione quantica energetica elevata. La trasmutiamo, quindi la portiamo ad un'energia pari alla nostra, alla tua vibrazione e la reinseriamo dentro di noi perché è tua, ti appartiene e quindi la metti dentro del tuo cuore, Simona. La rimetti, la ripristini come una emozione positiva, modificata, luminosa e automaticamente questo senso di colpa, questo legame karmico si è, hm, trasmutato, no? Lo abbiamo risolto. Eh, questo è molto importante, lo farai ancora tu per renderlo ancora di più permanente nella tua esistenza di ora e inizierai a camminare, eh, più aperta, più amorevole, più dolce, affettuosa nella linea temporale futura. Allora, bene, hm, Simona poi magari se mi scrivi, mi scrive, lo leggo, lo leggiamo insieme, Stella Russo, è vero, sono chiusa parecchio, sto male intorno a tanta gente e soffro nella mente cui vivo perché sono in centro città mentre vorrei tanto stare in natura. Ci proverò sicuramente, grazie a te, grazie alla mia anima. Eh, queste vostre anime sono meravigliose, siete, siamo tutte anime meravigliose e insieme, eh, miglioriamo e ci aiutiamo perché insieme facciamo la forza e tutto insieme è possibile. Grazie Katia, mh, sei veramente un angelo in terra e quindi sono felice di quello che mi dici. Allora, quindi Simona, sì, mh, Silvia, tu, Silvia, tu, tumolo, tunnolo, turmolo, eh, i vostri cognomi, tunnolo forse, ve l'ho detto, un giorno vi farò la foto di quello che scrivo. Allora, Silvia, tumolo, cosa arriva ad anima? È stata molto simpatica questa tua richiesta, gentile, ehm, e quindi sono qua a risponderti. Allora, Silvia, tumolo, vediamo un po'. Eh, senti, mi arriva questo, hai una, un'anima, eh, mi arriva giovanile, eh, mi arriva con delle trecine, quindi sicuramente mi sta dando, eh, questo piacevole senso, eh, proprio di leggerezza, di delicatezza, come tu sei, come mi hai espresso anche questa, ehm, questa domanda. Eh, c'è bisogno di fare ordine, mi dice, c'è bisogno di fare ordine. Mi dice anche un po' delle parole un po' pesanti, come per dire, c'è, devi mandare a quel paese, parliamo un po' così, alcune persone che ti infastidiscono. Quindi, Silvia, la tua anima ti dice di prendere quel coraggio che a volte ti manca di dire basta, cioè di chiudere, eh, con delle, eh, relazioni o con degli eventi tossici che a volte con la tua, eh, morbidezza, eh, magari acconsenti. Ecco, quindi hai bisogno di, di riprendere in mano la situazione della tua vita. Eh, questo modo delicato di, eh, di esserci e non esserci, di toccare tutto, ma di sfiorare, ehm, a lei non, non la riempie più. Quindi, mh, forza e coraggio, ti dice, eh, anima. E come anche in un modo simpatico di chiudere, eh, alcune, mh, situazioni, eventi con delle persone che tu sai perché la tua mente, eh, elabora abbastanza chiaramente, sono, sono tossiche. Quindi riprenditi in mano la tua vita. Silvia, è un messaggio molto importante. Eh, ci sei, eh, venuta delicata, però il messaggio è di fare ordine, riprendere, quindi lo scrivo proprio ordine e riprendere in mano la tua vita. Quindi chiudere al di fuori qualcuno che invece interferisce, eh, non farti condizionare dagli altri nelle scelte di vita e di quello, dei percorsi, eh, che tu invece vuoi fare, vuoi intraprendere. Quindi ordine e riprendere la tua vita, quindi ordine, forza e coraggio. Eh, Silvia Tunnolo, Turmolo, non mi ricordo, non capisco bene come ho scritto, spero di esserti stata di aiuto. Andiamo ancora avanti. Allora, mh, tutto d'un fiato, eh, allora, Lidia Benedetta, Meri, tutto ok? Per me mi sento disorientata, grazie. Allora, Simona, sì, Meri, tutto verissimo, sei meravigliosa, grazie. Bene, allora, grazie, grazie, ragazze. Andiamo ancora avanti perché le nostre amiche, eh, ci stanno aspettando. Oggi le domande sono bellissime, stiamo crescendo insieme, mi state proprio mettendo nel, eh, nel più profondo, nelle, nelle visualizzazioni e nelle comunicazioni che anima, mi piace, eh, che mi dica e che ci dicano a tutti noi. Allora, Maria Grazia Piacentini, irrisolti carmici. Allora, senti, Maria Grazia Piacentini, mh, senti, hai un, un irrisolto, sì, ce l'hai perché, eh, diciamo ce l'hai e non ce l'hai perché mi è venuta subito, eh, eh, la tua anima mi è arrivata vestita da prete. Allora, attenzione, eh, perché qui non stiamo parlando di religioni, noi le religioni le amiamo tutti e ognuno il bello di queste religioni è che le interpretiamo noi. Però, eh, Maria Grazia Piacentini, in quella vita quando tu sei stato questo prete e quindi andavi in giro a predicare, eh, diciamo, quello che era, eh, la parola in cui tu credevi e il bene che portavi, perché portavi, eh, la pace proprio, no, nei cuori, eh, risolvevi. Mentre tu facevi questo con un buon intento e ti eri però sposato a quello che in realtà come istituzione in quel tempo in cui tu eri, eh, sei in una Francia, eh, in una Francia, in un paese, ma neanche tanto paese, perché, mh, la chiesa in cui tu ritorni non è così piccola. Diciamo che, eh, in questo momento di guerriglie, quello che tu professavi, la, la tua religione, quindi, mh, chi dirigeva, diciamo, eh, non, non, non razzolavano per come invece predicavano. Eh, tu però invece facendo questi giuramenti, queste promesse, no, perché ci si sposa un po' a questa religione, ti sei un po', eh, concatenato. Quindi, Maria Grazia Piacentini, hai un irrisolto, mh, carmico con questa istituzione religiosa. Eh, Cristiano, vedo che hai la croce, quindi, eh, comprendi, devi in un certo senso fare pace, accettare, cioè, ehm, che l'ordine di questa istituzione a volte non è proprio così, eh, mh, benefica, mentre invece quello che tu avevi nel cuore era, ehm, era quello che veramente credevi, aiutare le persone, quindi sfamare i poveri, ti prodighi proprio per il bene al tuoi, molto per gli orfani, porti proprio con te questi ragazzini dai cibo, quindi devi dissociarti da quello che a quel tempo invece la chiesa e la religione andava, eh, seguendo il potere. Eh, nel momento in cui ti, ci dissociamo adesso, dai, facciamolo insieme, Maria Grazia, andiamo in quel tempo dove tu, eh, in un certo senso non lo volevi vedere quello che invece politicamente, ehm, si associava a questa, a questa chiesa, no? Quello che era la tua casa. Eh, non lo volevi vedere, quindi tu facevi i tuoi fatti. Eh, divorziamo da quel giuramento, perché quella istituzione in quel momento non, eh, non portava, eh, non ti si addiceva per quello che invece era il tuo cuore. Perché tu devi essere libera in questa vita invece di professare il bene come lo sei tu, cioè il bene come lo dici tu, come lo, lo senti tu. E quindi questo irrisolto karmico ti fa inciampare sempre, perché senti di aver fatto qualche cosa che non andava bene. Quindi andiamo lì e divorziamo da quello che, eh, quella volta, ehm, questa religione era un po' come mentite spoglie, c'erano le guerre e quindi comunque era un po' interferita questa religione. Ci divorziamo da quello, ma continuiamo a professare e quindi tu liberamente professi il tuo bene, il tuo credo, la tua religione proprio per la sua natura pura, come la intendevi tu. Questo divorzio che facciamo in quel tempo dove tu mi porti in Francia, in quella Francia oscurata da, eh, poteri politici, da guerre, eh, la vivi sotto un'altra forma, la vivi nella tua libertà dell'amore, nell'amore e nella compassione che hai, eh, verso le persone, eh, più povere, meno ambienti. Quindi, eh, ci siamo liberati da quell'irrisolto carmico che è con questa religione e anche qui in questa vita tu sei un po' così, mh, sempre in lotta nel sapere, no? Nel voler sapere a fondo la verità perché non ti fidi, no? Ovviamente lì, ehm, stavi praticamente fidandoti di quello, di quella religione, di quella istituzione e invece ti hanno tradito. Quindi, eh, Maria, grazie ci siamo divisi, divorziati, quindi oggi, nel qui ed ora, con questa rinnovata forma, eh, che ci siamo ripresi il nostro corpo, la nostra libertà, tu puoi liberamente professare il tuo amore incondizionato, compassionevole e prodigarti per gli altri, perché questo è il tuo compito, non me l'avevi chiesto, ma è arrivata anche come informazione. Lei finalmente è felice proprio di essere quello che da sempre sa di essere. Eh, ci siamo sciolti da questo irrisolto carmico. Poi mi farai sapere, eh, che relazioni hai in questa vita? Avevi, perché oggi sei libera di tutto, con le religioni. Allora, Silvia Tumolo, le leggo perché mi piacciono. Allora, pazzesco, è veramente così, sto seriamente lavorando per allontanare le persone tossiche. Mentre mi parlavi, la mia anima vibrava dalla testa ai piedi. Ringrazio te, la tua, la mia anima. Grazie, grazie, buona domenica e grazie. Silvia Tumolo, ecco, era il tuo cognome. Allora, Maria Grazia Piacentini, io invece ti lascio con un grande abbraccio, perché sei un cuore fantastico, un'anima meravigliosa e questo risolto carmico tu lo sentivi, perché è come se stessi sempre a cercare sempre di più informazioni, eh, che non ti, eh, dissetavano mai. Invece adesso tu sai quello che devi fare, sai che sei nel giusto e inizierai anche ad assorbire le informazioni dall'esterno con un altro stato dell'anima, no? Con fiducia e con pace, la pace interiore che tu dovrai riprendere per prodigarti per quei, per questi, per gli altri. Non so che lavoro fai, però se, mh, qualsiasi lavoro tu possa fare, rivolta all'aiutare gli altri, chi è in difficoltà, è il lavoro, eh, che, mh, ti compete. Allora, mh, andiamo avanti, Maria Grazia Piacentini, poi mi farai sapere. Katie Bechini, Kate Bechini, perché si blocca la vita sentimentale? Allora, Katie, che, Katie Bechini, perché si blocca la vita sentimentale? Vediamo un po' qua. Allora, ehm, la tua anima mi arriva qui davanti, ehm, è una ragazzina piccola, eh, sei anni, sette anni. È come se, mh, 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 è come se mi guarda, ehm, la famiglia, ehm, questi blocchi che hai qui nel sentimentale oggi, nell'adulto che sei, non so quanti anni hai, è qualche cosa di, ehm, inconsciamente assorbito nel momento della tua crescita. Ehm, guardi mamma e papà, continui a guardarlo a destra e sinistra, è come se, ehm, ehm, dovessi elemosinare una vita, ma loro li vedo presenti perché comunque arrivano, eh, di fronte a te. Ci sono come genitori, ma è come se, eh, non fosse stata sufficiente, ehm, il livello emozionale, eh, di, che, che, di cui tu avevi bisogno per riempirti. Quindi, ah, a questo punto tu, eh, ti sei fermata, cioè come se ti fossi fermata. C'è stato un evento, non riesco a capire, forse la rigidità dei tuoi genitori, eh, un contesto di sentirti, è come se camminassi nel mondo, eh, e sei sempre piccola, no? Piccola un po' di età, eh, quindi ti si blocca questa vita sentimentale perché non riesco a comprendere bene appieno, perché anima va un po' nella scuola, va un po' nella casa. C'è mancanza di autostima, Kate. Ehm, come se volessi tanto perché sei esigente con l'empatia, quindi le attenzioni, però poi alla fine bene bene di quello di cui hai bisogno non lo sai, ma fondamentalmente ti prodighi anche verso il compagno che incontri, sei carina, dolce, affettuosa, ma c'è poca autostima di te, questa, eh, questa, eh, poca autostima di te, di sentirti piccola, eh, non ti fa prendere le posizioni, quindi qualcosa inizia e poi finisce. Non c'è mai un continuo, una fine, anche se si blocca così. Eh, devi riguardare un po' il momento dei tuoi quattro anni, cinque anni, fino ai tuoi quattordici anni. Qualche cosa lì è mancato o è accaduto, eh, dove, eh, sono mancate, eh, sai, come un vaso, no, che devono essere messe non solo le educazioni nel mentale, quindi studia, vai a scuola, comportati bene, ma anche, eh, gioie, divertimenti e emozioni. E quindi tu, eh, ti sei approcciata a questo mondo sentimentale, eh, con poca autostima. Lei è piccolina. Noi facciamo così, guarda, intanto facciamola, mettiamola proprio in visualizzazione a queste altre anime, perché noi siamo un branco, ti vogliamo tutto bene, un branco, sì, siamo un branco di anime e quindi ti rincuoriamo e ti facciamo, ti mandiamo queste nostre vibrazioni proprio a farti elevare, aumentare la tua presenza, la tua presenza animica, che è una presenza, la chiamiamo, la trasmutiamo nel linguaggio della materia, quindi della vita, autostima. Quindi aumentiamo le tue vibrazioni e aumentiamo anche di altezza, non sei più piccolina, non sei più un vasetto magari vuoto che alcuni eventi della tua crescita non ci sono stati messi, ce li stiamo mettendo tutte noi. Quindi ti aiutiamo a riempirti di te stessa, della tua fiducia di te stessa e a comprenderti bene, perché in quel momento che tu ti sentirai piena di te stessa, della tua autostima, che dovrai guardarti alle specchie, riconoscerti, conoscerti e quindi comprendere appieno quali sono i tuoi desideri di un compagno. Blocca la vita sentimentale a volte anche perché enfatizziamo le persone che ci avviciniamo, creiamo delle immagini che poi ci rendiamo conto che loro non sono, perché anche noi non abbiamo il nostro riflesso integro. Quindi noi questo aiuto che te lo stiamo dando, ti risolleviamo, ti riempiamo nella tua bellezza luminosa e nella tua frequenza emozionale di autostima, affinché tu allo specchio ti possa riconoscere, conoscerti e quindi presentarti al futuro compagno, con la tua integrità, perché è questo che poi farà prolungare la tua vita sentimentale, prolungare o rinascere o rinvivire, in un certo senso modificare questi blocchi che hai in questo momento nel sentimentale. Nel frattempo, in questo tempo che noi non ci vediamo fino a magari la domenica prossima, inizia ad esplorare i tuoi sentimenti di crescita, domanda a mamma, papà, come sono stati i momenti in cui magari noi a volte non ci ricordiamo o non vogliamo ricordare, dei nostri 4 anni, 5 anni, 6 anni, inizia a ricomporre questo puzzle. È molto importante sapere chi siamo stati per sapere chi siamo adesso e chi vogliamo essere, specialmente in una relazione sentimentale. Questo anima mi dice, mi è arrivato così da bambina e quindi noi ti abbiamo dato coraggio, forza, energia e integrità. È la tua autostima, perché con l'amore di tutti noi ti abbiamo riempito. È stato molto bello vederti. Speriamo che siamo stati tutte di aiuto, perché ti abbiamo aiutato tutte. Allora, bene, andiamo avanti, poi magari mi scrivete se vi sentite a fine. Andiamo avanti, 5 minuti, però io spero che posso rimanere altri 5 minuti, perché ne abbiamo, ne ho altre e andiamo ancora avanti. I canali sono nati poco fa nel sentirti. Allora, Donatella Gargiulo, perché sono qua? Allora, Donatella Gargiulo, vediamo un po'. Katia, se mi riesci a dire se posso rimanere altri 10 minuti perché finiamo queste ragazze che ho scritto. Allora, Donatella Gargiulo, perché sono qua? Allora, senti Donatella, tu sei qua veramente, sei molto energetica, sei un'anima ribelle, perché arrivi qua con una definizione molto molto forte, cioè sei ben definita. Sei molto presente anche animicamente nel quotidiano, quindi non c'è, non è una mente che non si fa sovrastare dalla mente. Lo comprenderai perché hai un'anima importante e una forza energetica animica molto molto forte. quando inizierai a staccarti, cioè devi raggiungere l'indipendenza. Stai facendo, hai fatto un percorso dove ancora ti vedo trattenuta più che tu nella tua anima ribelle vorresti essere ovunque, se potessi saresti ovunque in tutti i momenti, quindi un po' qui, un po' là in tutto il mondo. Sei stata trattenuta, quindi questo sentirti trattenuta ha un po' frustrato questa tua forma di ribellione. Sei qua per fare questa esperienza in un momento così particolare di risveglio quantico importante, di un'onda energetica di risveglio. Non devi perdertela perché tu andrai in via insieme a questo bellissimo gruppo di anime risvegliate, liberi da questo circuito di reincarnazione. Quindi sei qua per un compito molto importante, non farti più trattenere e vai avanti proprio per il tuo sentire. Il senso di libertà, quindi hai un'energia cristica, se vogliamo dire, è come se tu avessi finalmente trovato la tua consapevolezza. Perché sei qua? Perché questo è il momento dove si aprono questi portali dimensionali importanti, quindi il momento in cui arriverà la fine dei nostri giorni, quindi dopo il compito di risvegliare altre anime, tu avrai la possibilità di decidere di non reincarnarti più. E questo è un momento molto particolare, ma non nel 2021, questo è un lungo momento di risveglio energetico, di anime che si ribellano come tu sei. Questa vita sei scesa in questo particolare momento perché saprai che quando sarà raggiunto il tuo momento tu potrai andartene via e non ritornare in questo ciclo di reincarnazione. Sei destinata a fare esperienze in alte frequenze, vibrazioni non di terza dimensione, di quarta, di quinta, se no anche di sesta dimensione, più evolute. Evolute non perché siano più di consapevolezza, ma non più di materia così pesante, quindi creatori, insomma qualche cosa di spettacolare. Quindi Donatella Gargiura sei qua per un importante compito, quello di risvegliarti, perché ovviamente devi risvegliarti, ogni vita ci fa dimenticare, quindi di ricordarti chi sei e di prepararti a questo meraviglioso salto. Prepararti nel momento che sei qua, ovviamente di risveglio, prodigarti affinché altre anime si risveglino come te. Li riconosci chi vibra la tua vibrazione, le vai proprio in cerca. Tu se non sono persone che hanno la tua stessa vibra, giri dritto, quindi inizia a sentire il tuo istinto perché sei veramente molto molto speciale come anima. bella, complimenti Donatella, complimenti ti fa anche rima, sei qua per una cosa molto importante. Quindi attivati, ecco, non perdere questo particolare momento. Allora andiamo avanti, vediamo se mi danno il permesso. Allora Katia, chissà se mi dai il permesso di rimanere altri cinque minuti. Allora di corsa Barbara Martiguali, la direzione quale? Allora Barbara, senti, questo è un po' il futuro, direzione quale è un po' difficile per me sentire perché anima mi porta sempre altre informazioni, però ci sono qua su bridge le mie colleghe che sono bravissime. Andiamo avanti, però vediamo se ho un piccolo messaggio, un flash. Barbara Martiguali, la direzione quale? Allora senti, una direzione, una cosa, un cambiamento devi fare più che partire o scegliere chissà quale direzione e volerlo sentire dall'esterno. devi non più farti condizionare dagli occhi esterni, come se il vociare, le critiche o qualche cosa che sono i giudizi esterni per te siano molto importanti. Quindi mi è venuta proprio che mi fa così, si scrolla come occhi, parole, orecchie nei suoi abiti. Qualunque direzione tu possa prendere, hai una buona fortuna, ma questa buona fortuna la devi attirare a te togliendoti questi blocchi che ti causano, che vengono causati da orecchie, occhi, diciamo questi giudizi dall'esterno. Allora, Tatiana Marina, a te ti risponderò in privato. Mi piacere di vederti, ti do un bacio. Ragazze, altre due, Lucia Riccelli, legami karmici e Sara Baragiola, ferite stanno guarendo. E poi ho altre quattro ragazze che risponderò, indagherò con i miei genitori sull'età che mi ha indicato, grazie infinite, Kate Brescine. Allora, Barbara, Lucia Riccelli, legami karmici. Allora, Lucia Riccelli, senti, tu mi arrivi, hai una bellissima, hai un bellissimo colore, hai un colore bianco, bellissimo come un po' tutte noi, diciamo, però rifletti anche di una luce azzurrina, sai come quel, non so, un azzurro bellissimo, trasparente. Non hai legami karmici, non ti porti strutture che ti bloccano, ma fondamentalmente devi, ma come stai già facendo, perché è una luminosità bellissima, devi iniziare a pensare a te stessa. È come se fino adesso la vita che tu hai condotto ti ha distratto un po', ti ha distratto. Quindi ti senti, ti sembra di essere bloccata, ma in realtà è invece che non ti sei preoccupata molto di quello che erano i tuoi, il tuo fare, il tuo desiderio, il tuo volere, no? Un po' andando dietro magari anche al quotidiano, quindi il lavoro, l'economia, insomma, la situazione economica, la famiglia. senti, hai una bellissima luminosità, sei libera da ogni legame carmico e anche di struttura interferente, di entità magari malvagie, di vibrazioni di bassa frequenza, però devi iniziare a conoscerti, a riconoscerti, cioè a pensare a te. Ecco, quindi non sei a caso in questi percorsi perché nel momento in cui tu riaccendi e riconosci tutta la tua bellissima vibrazione, hai dotti fantastiche, hai dotti di guarigione, hai dotti dell'acqua, ripulisci, tu sei questo azzurro che mi fa vedere, è come se riuscissi a far star bene le persone, ma ripulirle sai delle tossicità, le persone che magari sono cariche si devono scaricare e liberarsi dai carichi, insomma hai una bella una bella anima ed è pronta a fare, quindi metti un po' le cose a posto e inizia questi percorsi di guarigione, di carica spirituale e energetica perché ne hai tutte le capacità, sono tutte lì solo pronte ad essere riconosciute perché sono già attive, non mi stupirebbe che Lucia quando le persone stanno con te te lo dicono proprio che si sentono bene, ne incontro sai di anime così, non così facilmente però mi piace quando le incontro perché avrei desiderio proprio di stare insieme a voi, quindi non hai legami carmici, non ti porti memorie da altre vite, sei distaccata e hai questa saggezza dentro di te perché dentro il tuo zaino della vita porti le cose che ti servono, forse sei anche qui in questa vita molto essenziale ma quando fai la valigia per i viaggi non sei di quelle che si portano tutto, ti porti le cose che servono, quindi ora che hai sistemato tutto intorno a te inizi a pensare a quello che ti piace veramente che è far stare bene le persone perché tu ci riuscirai quindi questi percorsi spirituali in qualunque percorso tu ti possa mettere sai fare, ecco, è molto bella, sei come l'acqua quindi l'acqua si amalgama per tutto e pulisce e rigenera insomma l'acqua dà la vita quindi questo è un messaggio bellissimo che Anima mi dà riconosciti e non permettere a nessuno di chiuderti cioè di metterti in una bassa un basso pensiero allora Barbara Martignoli grazie a me dei pensieri degli altri grazie mia Barbara Martignoli allora ecco vedi quindi la direzione quale è quella che non ti vedi Barbara non ti devi far coinvolgere dei pensieri degli altri Barbara è molto importante perché altrimenti tutti i percorsi e le direzioni che prenderai poi saranno magari sbagliate perché senti di non averle scelte tu ma di esserti fatta condizionale allora Sara Baragiola ferite stanno guarendo Sara Baragiola tu stai facendo un lavoro molto importante di ristrutturazione energetica mentale e spirituale stanno guarendo sì stanno guarendo sei forte stai uscendo diciamo da questo nuovo capitolo della tua vita eh bene grazie eh ti arrivo ora puoi dirmi della mia anima allora grazie ragazzi oggi ho rubato un po' di tempo eh sono dieci minuti però voglio dirvi una cosa allora eh ho preso Maria Giovanna Santoro Bonomo Maria Simona Lobianco Legami Carmici Serena Prospetti Claudia Elisabetta Diana Ponticelli che io domani mattina eh mi sveglierò e risponderò quindi magari se mi chiedete l'amicizia oppure vi cercherò qua vi trovo eh comunque e e vi risponderò eh lasciandolo qua nella chat così anche le altre nostre amiche potranno andarle a leggere eh vi ho preso vi prenderei tutte ragazze tante eravate tante tante però non sono riuscita abbiamo fatto un lavoro molto più importante siamo andati cioè a vedere bene che cosa possiamo fare con anima le comunicazioni che anima ha da darci non è solo un messaggio sono messaggi sono cose proprio importanti che ha bisogno di dirci ci porta proprio nella vita attuale nella vita passata proprio per migliorare il presente quindi stiamo crescendo insieme anche per voi andare avanti oltre il messaggio no abbiamo risposto ai messaggi adesso stiamo andando avanti ci stiamo sempre di più alleggerendo eh carte grazie allora io vi saluto vi ringrazio grazie di essere stati qua con me mi accompagnate vi come dico sempre vi amo vi voglio bene vi adoro vi abbraccio tutte forti ci rivediamo eh fra un paio di domeniche eh un bacio grande e fate un bagnetto se andate al mare per me da me piove adesso è inverno un bacio care a prestissimo ciao ciao grazie a tutti